Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro si sarebbero dovuti sposare venerdì 11 ottobre, ma hanno deciso di anticipare le nozze a questo. La nuova data è il 12 luglio, cambiato anche il luogo dove si svolgerà la cerimonia, non sarà più in Campania, ma in Toscana e per la precisione in Versiglia e il motivo. In Corvaia, ospite di Monica Setta, a Storie di donne al bivio, puntata che andrà in onda l'8 maggio, ha raccontato, come rivelano le anticipazioni, che questi cambiamenti. In Corvaia, ospite di Monica, lei e Paolo Ciavarro vogliono dedicare il matrimonio a Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due ex negli ultimi mesi si sono riavvicinati moltissimo, colpa, o merito, della malattia che l'attrice sta affrontando. I due attori si incontrarono sul set di Sapore di Sale 2, nel 1983, a Forte Dei Ma. Ecco perché è stata scelta la versione. Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze, ha spiegato Clizia sottolineando così il motivo che li ha portati ad anticipare il ma. Clizia ha anche cambiato idea sull'abito. Se prima aveva ipotizzato un vestito nero, o comunque qualcosa di molto particolare, ha invece svelato di aver optato per un abito bianco. So, Clizia ha anche cambiato idea sulla. Gli invitati saranno circa 200 dunque la festa sarà informato. Maxi, l'ho voluta io che ho una famiglia larga, ha rivelato. Paolo si sarebbe sposato solo con i.